Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Bruno e io sono Lollo. Oggi faremo un video chi segna va in porta. Vai, spiega. Allora, prendo uno starà in porta e l'altro dovrà cercare di segnare. Quello che segnerà poi andrà in porta e quello che sta in porta dovrà cercare di segnare. Quindi, iniziamo. Vai. Ok ragazzi, se vuoi iniziare, via. Vai. No, guarda. Vai. Oh! 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 Nooo Nooo Ragazzi Un 4 non manca una Vai eh Va bene Ciao Un cross per petro 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti